Tutti guardano all'effetto della delibera e non alla causa, così replica il commissario Scarso in relazione alle varie prese di posizione sulla delibera adottata con i poteri dell'Aggiunta sulla proposta di recesso dal Consorzio Universitario. Ormai agli sgoccioli del suo mandato, il commissario Scarso tiene a fare alcune pericizzazioni sulle motivazioni che lo hanno spinto a fare tale scelta. E da mesi che discutiamo anche in tavoli istituzionali il rischio che una mancata inversione di tendenza nella gestione del Consorzio avrebbe comportato per l'organismo, qualora non fossero intervenuti, fatti nuovi come l'ingresso di nuovi soci o nuovi finanziamenti, dichiara Scarso. Un rischio che tutti hanno sottovalutato lasciando in capo ai due soci ogni responsabilità di una provincia che, in forza della legge numero 7, era la fine della sua azione. Se il commissario Scarso ha adottato la delibera di proposta di recesso, dice l'ha fatto perché sino all'ultimo ha difeso gli interessi dell'ente per il quale era stata chiamata ad amministrare. Scarso inoltre ha precisato che la scelta è di adottare esclusivamente la delibera di proposta di recesso fatta con i poteri dell'Aggiunta e non quella con i poteri del Consiglio, deriva dal fatto che la delibera di giunta è un atto dovuto o considerato che per le ristrettezze del bilancio della provincia non si può assumere l'ente un onere così pesante per il mantenimento di un consorzio che non riesce a stringere i cordoni della spesa. Non aver adottato la delibera di consiglio, aggiunge Scarso, significa lasciare una porta aperta alla possibilità di salvezza del Consorzio, che se tutto rimane com'è non ha speranza di sopravvivenza. Da tempo Scarso aveva lanciato l'allarme e vi sono anche verbali che lo testimoniano, ma nessun intervento è stato registrato. La presenza universitaria, inoltre dice Scarso, è assicurata sino al 2024 per l'accordo transattivo che ha firmato insieme al Comune di Ragusa. Discorso diverso invece per il futuro del Consorzio. La media libera con i poteri di giunta e un avviso ai naviganti, ma anche la riprova di un commissario che ha compiuto atti legittimi siano l'ultimo giorno per salvaguardare l'ente provincia e tenerla in sicurezza.